Ciao, buongiorno, come state? Oggi mi sento un pochettino, come si dice, una strega, una befana, anche se mi mancano le unghie lunghe e qualche cosa, magari un bitorzolo sul naso. Ma perché siamo qui? Beh, perché vi devo dare appuntamento a domani. Eh sì, perché ritorno al martedì e come tutti i martedì noi che facciamo ci ritroviamo insieme per della musica rock. E allora ho cercato di trovare qualche, diciamo così, qualche vinile che potesse andare bene per raccontarci un po' il nostro rock. So che non è molto, diciamo così, legato all'epifania, ma questo disco, ad esempio, mi piaceva tantissimo, così come anche questo. Si parla di animali, ma si parla anche di donne, in qualche modo, in una copertina anche questa particolare. Per cui se vi va, come sempre, io domani vi do appuntamento qui alle 9.30 per raccontarci un'altra giornata dedicata alla musica rock. E come ogni befana o meglio strega che si rispetti, io ora vado a mangiarmi la mia mela. Ciao! A domani, 9.30, vi aspetto! Ciao!